Prendo la borsa e usciamo? Ok Abbiamo fatto tutto? Sì, sì, ho fatto tutto Hai attivato il kit? Ah, ecco cosa che me l'ho scordato Sì, la faccio subito un attimo solo Ciao a me, mi raccomando, fai la brava, eh Ci vediamo dopo Ciao, e non rompere tutto, eh Speriamo di aver chiuso tutto Con quello che si sente in giro adesso Ma sì, ma stai tranquillo Lo sai che il kit ci dice subito se succede qualcosa Dall'incendio, al ladro Persino le perdite d'acqua Fai tranquillo Dove andiamo a cena? Ma ho sentito di un ristorantino che c'è lì in Carlo Maier Hanno detto che si mangia molto bene Direi di andare a fare un giretto, felice? Sì, sì, mi piace Così dopo magari ci facciamo anche un telecento Ottima idea Ci sto Provare no Fare O non fare Non c'è provare Ciao Ciao, buonasera Buonasera Ti faccio accomodare? Sì, grazie Prego Sta suonando Ma che è che ti scrive? Ma a quest'ora? No, è l'allarme sai A casa nostra L'allarme è di casa? Sì Eh sì No, vabbè Andiamo a casa, subito Non c'è bisogno Tanto c'è la telecamera Riprende tutto Anzi adesso diamo un'occhiata Cosa vedi? Mi dici cosa vedi? Per piacere Cosa vedi? Cosa vedi? Cosa vedi? Grazie a tutti.